Take it easy, take it slow We can do it just like before So take it easy, take it easy Ragazzi prima di iniziare con il video vi rubo giusto due secondi Da come potete leggere da questo grafico Il 95% di chi guarda i miei video non è iscritto al canale Quindi se sei nuovo e non sei iscritto al canale Mi raccomando iscriviti con la campanella attiva Ringrazio di cuore ognuno di voi che lo farà Veramente grazie di cuore Ora vi lascio al video, buona continuazione Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video Io sono Cecchinato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video di Fortnite News Ragazzi prima di incominciare con il video vi ricordo come al solito Di iscrivervi al canale con la campanellina se non l'avete ancora fatto Di lasciare un bel like e di condividere questo video con i vostri amici E se vi va di seguirmi su Instagram Cecchinato-tv Detto questo ragazzi oggi andremo a parlare di un probabile pass battaglia doppio Di una curiosità davvero molto interessante del fumetto di ieri Ripandiamo un attimo quello che è successo E di nuove skin confermate probabilmente nel nuovo pass battaglia stagione 4 Io direi ragazzi che possiamo subito incominciare per quello che riguarda il fumetto che è uscito ieri alle 4 Come ormai ogni giorno Vi metto qua subito l'immagine dei due fumetti Ricapitolando velocemente Thor aveva dimenticato la memoria ma riesce a riacquisirla Grazie a diciamo Galactus che stava cercando di entrare nel mondo di Fortnite Infatti Thor si ricorda il suo obiettivo il perché era nella nostra isola ovvero per salvarla E quindi diciamo che chiede aiuto a una superiorina Che adesso non mi ricordo il nome mi sembra che sia Lady e qualcos'altro Comunque sapete benissimo immagino chi è E in teoria domani con il prossimo fumetto infatti dovrebbe arrivare nel mondo di Fortnite Questa superiorina a diciamo dare aiuto a Thor Infatti ragazzi nel fumetto che uscirà oggi alle 16 Mi raccomando non perdetevolo perché è l'ultimo per questa stagione Thor e Galactus insieme alla Lady Sif Che è per l'appunto la guerriera femmina Che darà aiuto a Thor Si sconteranno molto probabilmente nel mondo di Fortnite Quindi sarà veramente un fumetto bellissimo a parer mio Vedremo un combattimento veramente figo Quindi non perdetevolo Io vi faccio vedere anche questa curiosità che è davvero tanta tanta roba ragazzi Vedete questa immagine qui che vi ho messo alla mia destra ragazzi Questo era una schermata che andavi piano piano a completare durante la season 9 Con i Fortbytes se non erro Che dovevi prendere in giro per la mappa Bene ragazzi se noi guardiamo C'è una specie di martello raffigurato in questa schermata Che ovviamente apparteneva alla season 9 ragazzi del capitolo 1 E' davvero interessante la curiosità perché vuol dire che già dalla season 9 avevano praticamente creato tutto ragazzi Avevano già in testa ogni minima cosa che è successa all'interno di questo gioco Vi faccio anche vedere un'altra curiosità sempre all'interno di questa schermata Come potete vedere c'è una sagoma nera che sembrerebbe essere Galactus ragazzi Come vedete c'ha le colna proprio come lui Sembra essere identico Veramente bella come una curiosità Ditemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate Ma adesso ragazzi andiamo a parlare delle due nuove skin Che probabilmente vedremo all'interno del nuovo Pass Battaglia stagione 4 ragazzi La prima è lei Ve ne ho parlato già prima Lady Sif Ovvero la skin La super oina che andrà ad aiutare Thor contro Galactus Veramente molto carina Probabilmente la vedremo all'interno del nuovo Pass Battaglia E l'ultima ma non per meno importante E She Hulk Ovvero la skin femminile di Hulk Quindi davvero tanta tanta roba Probabilmente la vedremo all'interno del nuovo Pass Battaglia E chi lo sa che non vedremo magari Hulk versione maschile invece uscire nel negozio oggetti Vedremo comunque con l'andare del tempo se l'avremo Comunque la versione femminile sembrerebbe che nel Pass Battaglia ci sia Io ragazzi voglio solo parlarvi più di un'ultimissima cosa Di un leak che dovete proprio prendere con le pinze Quindi mi raccomando nulla di ufficiale Prendetelo proprio con le pinze pinze E secondo tanti rumor ragazzi avremo non uno ma ben due Pass Battaglia Uno a versione diciamo Marvel e l'altro versione normale Quindi con skin normali E non lo so ragazzi Secondo me lo vedo difficile Vedremo I rumor dicono così ma per il momento nulla di confermato Quindi prendetelo proprio con le pinze Nulla di ufficiale ovviamente Quindi vedremo Inoltre si dice anche che la skin segreta Possa essere Spider-Man Sono tutte teorie ragazzi Domani avremo tutte le conferme Quindi state tranquilli Basta solo ormai aspettare Io direi che però per questo video è tutto ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto In tal caso mi raccomando lasciate un bel like Un bel commento E noi ci possiamo vedere sicuramente domani con la nuova season Con tutte le sfide e tutte le news che ci saranno Bella E noi ci possiamo vedere sicuramente domani con la nuova season E noi ci possiamo vedere sicuramente domani con la nuova season E noi ci possiamo vedere sicuramente domani con la nuova season E noi ci possiamo vedere sicuramente domani con la nuova season E noi ci possiamo vedere sicuramente domani con la nuova season